Ciao a tutti ragazzi, mi è tornati su CrandiSlate4 E siamo qui con un altro episodio di Dead Island Wrapped, Ripped, come cazzo si chiama Vorrei uscire da questa cavolo Perché ho visto che praticamente fuori dalla nave è spettacolare Anche se la grafica, voglio dire, non è delle migliori Perché comunque su questo gioco la grafica, il motore grafico è un po' vecchiotto Quindi non è dei migliori Allora Potenzia, vediamo che cosa possiamo potenziare Posto, riparazione Normale, manganello No, il manganello ce l'abbiamo Il coltello da cucina si può potenziare Ripara, si, si ripara Coltello d'immersione ripara anche Buono, ok Si vede che io De sto gioco Non capisco un cazzo Però comunque Ok Andiamo qui dentro No No Stiamo affondando Vieni qua Vieni che devo dire una cosa Te devo dire una cosa Amfame No 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 Aspetta che prendo il manganello Bah Cioè ma Ma si può fare così Ma potete comportare Si sente un casino C'è qualche radio Che fa interferenza Non posso prendere niente Questi nell'acqua Quindi Vieni qua col coltello Vieni che devo dire una cosa Guarda che bel fisico che c'hai Guarda Vieni qua Vieni Animaletto Ah Ah Bastardo Mi hai fatto cagare sopra Allora Ma che cazzo è uscito Ah ma c'è un radar Cioè si vede proprio il gioco Lo sto guardando Al dettaglio Va bene Va bene Passiamo dall'altra parte Il coltello Mi piace un sacco Allora Ehi Buonasera Qua c'è un altro amico Joe Mi devo riprendere il coltello Mi devo riprendere il coltello però E devo riprendere il coltello Dove stava Eh, grazie Il coltello è mio Per favore Restituiamolo al legittimo luvedario Quindi da qua dovrebbe uscirsi fuori Dai, usciamo da questa gaspita di nave Sini premuto No, ancora qui dentro Due palle Ma quanto cacchio manca? Eh, amico Mi sa di dove sta l'uscita? Oh Eh, senti, va che subito Un po' di soldi che... Qua c'è Eh, amico, ne sapevo che venivi da dietro Dalle spalle, ti piace Ti piace inculare Alzati Alzati Dove è andato? Meno male E che cazzo fai? Mangarello No, non mi dà niente Non mi regali niente Saliamo sopra Vediamo che cosa ci può essere sopra Anche se secondo me dobbiamo scendere sotto Non andare sopra Per uscire da... Ah Mo' si che si ragiona Oh, si, 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 si Pistola, munizione Che cazzo sta succedendo? Mo' penso che ci sarà un bordello, ragazzi Ci sarà veramente un bordello fuori Ricarica Allora Di qua c'è qualche amico Joe Qualche amico Joe Buonasera Niente Allora, dicevo che volevo fare qualche gameplay di Battlefield Sul multiplayer Dato che sono scarsissimo Allora R ricarica Qui c'è anche una bella doppietta Che io prenderei una bella doppietta Perché una doppietta è sempre una doppietta Bellissima Io amo il fucile a pompa, ragazzi Sono per il pompone dappertutto Un pompone per tutta la vita Andiamo Quindi Col destro Si entra nel mirino E niente Ok Oh la 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 Oh la cica Qui avevo già visto da qualche gameplay Questa parte l'ho già vista Quindi ve lo dico già Che c'era un bordello Avevo visto che c'era Molto figlio di puttana Colpo in Colpo alla testa Molto figlio di puttana Colpo alla testa E Sorriderò Perché siete così cattivi Ma che abbiamo fatto Questo virus Per selezionare Un armabilizzabile Allora Questo si 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 Scegli L'armi consumano più lettramente Frenesia Si Poi vediamo Il lancio furioso Come una roccia Non puoi essere scagliato a terra In modalità furia Mi gusta parecchio I danni aumentano Quando sei ubriaco Il costo per il potenziamento Di armi si riduce Aumenta il numero di slot Dell'inventario Per carità Si Quando viene scagliato a terra Ti rialzi rapidamente Ma alla grande Ok stiamo a zero Quindi basta così Direi di andare Di nuovo A salutare Mi friends Hello Hello Amico Ciao Ciao Calma Calma Ehi C'è qualcosa che non va Ma c'è qualcosa che non va Qui c'è qualche amico Qui dentro Anche se prima comunque sentivo Degli spari Venire da Da qualche altra direzione Poi non so se sono io Forse che sono Strabbico d'orecchie Eccolo 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 Bah 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 Vai calmo Perché stai così agitato Che è successo Allora 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 Ragazzi Dicevamo Vediamo Dove dobbiamo andare Mi sento un po' Rambo Con sto pompone Io Andrei con un bel coltello F Ma non mi danno più niente questi Quando li mozzi Non ti danno più niente Calmi Stiamo calmi Dietro non c'è nessuno Io mi prenderei un bel coltello Ciao Colpo alla testa Bisogna essere molto precisi nel colpo No no basta ragazzi Veramente Ragazzi stiamo esagerando però Calmiamoci vuol dire Questa festa vuol dire è chiusa È il numero chiuso Cioè non possiamo entrare tutti Ragazzi non potete entrare alla festa Purtroppo l'ingresso si paga 25 euro a testa Se non avete i soldi non potete entrare Mi dispiace Con tutto il bene che vi voglio Questa nuda Che cos'è questo? Diciamo che la grafica del mare Fa leggermente cagare Ma che si salgono? Sì vabbè Quanti ci ho pompone Ragazzi Ragazzi mi lasciate solo Venite a darmi una mano no? Oh amico Died You died Muori Pezzo di merda Io sento ancora gridare però Sento gridare ma non sento aiutarmi Allora 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 Saliamo intanto a vedere che dicono questi amichetti qua Buonasera Dopo questo filmato ragazzi Interromperò il gameplay Sì Se la squaglia in poche parole Eh sì Vabbè ragazzi scusate Questa parte la facciamo La facciamo perché Bellissimo quello Sta uscendo da prototype Direttamente da prototype Oh yeah Eccoci qua Andano nervigio Vabbè Di 스� selvot A Garncznie Garnstra Garnirie Garn Wed Garn 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 Sin Garn Sing Garn 出 ragazzi il grande chi se lo fa lo spauracchio no calmo è finito è morto è morto chi manca l'appello ok ragazzi niente vi saluto a tutti quanti ci vediamo al prossimo video di sul canale di Slate4 e niente non so su cosa sarà vedremo ciao a tutti ragazzi ciao a tutti da Slate4 e al prossimo video